La provincia di Ragusa avrà entro fine mese il suo primo tratto di autostrada. Lo ha confermato ieri pomeriggio l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone in sopralluogo sull'autostrada Siracusa-Gela e precisamente nel tratto Rosolini-Spica. I lavori sono ormai in fase di completamento, mancano poche finiture e si è pronti per l'inaugurazione prevista per il 28 di questo mese. L'obiettivo di tale sopralluogo era proprio verificare con i propri occhi l'andamento dei lavori che nel corso degli ultimi mesi hanno subito un rallentamento legato all'attuale emergenza sanitaria. Nonostante tutto la pandemia non ha sciolto la promessa già fatta a gennaio di quest'anno, ovvero che il primo tratto d'autostrada sarà inaugurato entro l'anno. Anzi, tale nuovo sopralluogo di ieri ha permesso all'assessore regionale di garantire che il primo lotto autostradale ha già iniziato il conto alla rovescia per la data di inaugurazione fissata a scanso di imprevisti per il 28 giugno. Negli ultimi mesi anche un'altra corsa si è registrata in parallelo, quella contro la burocrazia nei liter di collaudo e di tutti gli adempimenti necessari all'apertura al traffico dell'arteria. Abbiamo chiesto ai tecnici delle imprese appaltatrici e delle autostrade siciliane di fare il massimo, ha commentato Falcone, perché non vorremmo correre il rischio di ritrovarci con un'opera inutilizzabile anche se completa. Problema risolto visto che anche a Roma, cui fa riferimento la commissione di collaudo della Rosolini Ispica, hanno ingranato la marcia nell'interesse del territorio del sud-est e dell'intera Sicilia per poter fruire di un'infrastruttura attesa da decenni. È un grande obiettivo che la regione siciliana e che il governo musumeci vogliono realizzare per dare finalmente la certezza, la contezza a tutti i siciliani che in Sicilia le infrastrutture si possono realizzare. E quali stiamo realizzando? La stiamo realizzando in questa porzione del territorio siciliano dove non c'era un solo chilometro di autostrada. Parliamo della provincia di Ragusa, ma possiamo anche parlare di quella di Siracusa. Abbiamo realizzato i primi 10 chilometri appunto della Rosolini Ispica che darà il via poi agli ulteriori 10 chilometri da Ispica sino a Modica. Oggi siamo qua per fare un sopralluogo, un monitoraggio. C'è il direttore generale, il direttore Bellomo, assieme all'onorevole Cannata che ha seguito sin dal primo momento l'evoluzione di questa autostrada e poi abbiamo appunto il direttore dei lavori, l'ingegnere Garozzo, il geometra di fede, ma c'è anche il rappresentante dell'impresa, il direttore tecnico dell'impresa, l'ingegnere Mozzicato. Insomma ci siamo tutti per mettere a punto le ultime battute perché il giorno 28 giugno si possa finalmente aprire alla fruizione pubblica questa meravigliosa autostrada.